Gubbio-Pescara 2-2, stadio Barbetti di Gubbio, l'arbitro del match è Moriconi di Roma 2, naturalmente i capitani al centro del campo, abbiamo detto il Gubbio con 3-4-3, stesso sistema a cui si affida ormai dall'inizio del campionato il tecnico-tecnico, però cambierà il corso d'opera, subito in attacco il Gubbio con questo tentativo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, siamo al quarto minuto, sbaglia completamente l'approccio, il Pescara c'è questo sinistro di Sainz Mazza, da posizione più che privilegiata, pallone alle stelle, vediamo che subito Arena crea difficoltà con il suo gioco di gambe, la sua grande qualità, brevilinio, scattante, davvero un bel giocatore classe 2000, sbaglia tutto, Drudi, poi Arena riesce a sterzare su Frascatore, cerca di rimediare, rimonta Drudi, colpisce il pallone, c'è l'autogol con il Gubbio che dunque sblocca la situazione al minuto 7 nel corso di questa prima frazione di gioco, Gubbio in vantaggio, autogol di Mirko Drudi che ha sbagliato, molto pigro nell'effettuare il passaggio ritroso per il suo compagno di squadra, Arena velocissimo, la sterzata sul Frascatore, il pallone sul destro, la rimonta di Drudi che tocca il pallone con il sinistro in scivolata, la sfera si infila all'angolino basso alla destra del portiere Luca Anania, dunque Gubbio in vantaggio, senza dubbio migliore l'approccio degli Ogubini, una squadra che gioca sull'aggressività, sulla pressione, qui sbaglia ancora Drudi ed è costretto ad un'uscita davvero provvidenziale, Raffaele Di Gennaro che evita il 2-0 e quindi lo 0-2, attenzione ora a Sainz Mazza, forse un fallo commesso ai danni di Rizzo e il pallone per Arena, il solito Arena, maglia numero 30, classe 2000, il suo sinistro, sordola la traversa della porta difesa da Raffaele Di Gennaro, insomma i pericoli sono continui nei primi 20 minuti di questa partita con la Gubbio in vantaggio, ancora Arena, lato corto dell'area di rigore, il passaggio per Sainz Mazza che si gira, il tiro completamente da dimenticare, la palla termina distante dal pallone sinistro della porta difesa da Raffaele Di Gennaro. Siamo al minuto 18, il calcio di punizione di Cittadino, dotato di un gran calcio, su punizione ha fatto diversi gol, la palla però si alza sopra la traversa della porta pescarese, poi il tentativo, vediamo, di Marilungo, qualcosa a metà tra il tiro e il cross, la palla termina a fondo campo, segnali di Pescara nella parte finale del primo tempo, ma attenzione ancora ad Arena, che davvero un giocatore molto ma molto interessante, il pallone in mezzo, c'è una deviazione, blocca alla sfera Raffaele Di Gennaro, all'altezza della sua area di competenza, 36esimo minuto nel corso del primo tempo, forse un fallo commesso da Drudi ai danni di Arena, si lamenta anche Bulevardi per il pallone che gli viene scippato, forse in maniera irregolare da Memuscia e quindi De Marchi dentro per Marilungo, la palla passa, segue tutta l'azione Clemenza a questo merito, il gol del pareggio, 36esimo minuto nel corso del primo tempo, posizione regolarissima di Clemenza, bravo De Marchi, grandi proteste, vehementi da parte della panchina del Gubbio, all'indirizzo del quarto uomo, forse c'era uno dei due falli, probabilmente quello di Drudi su Arena, comunque insomma non ci si può lamentare degli arbitri, forse aveva ragione in questa circostanza la panchina del Gubbio, segnatamente il tecnico Vincenzo Torrete, rivediamo l'azione, bravissimo De Marchi, la verticalizzazione per Marilungo, la palla passa, forse deviata dal portiere Guidotti, che è un ottimo difensore, scuola fiorettina classe 2000, e poi Clemenza che ha il merito di seguire tutta l'azione, segna Portawater, secondo gol con la maglia del Delfino, attenzione, al 39esimo minuto c'è questo intervento risolutivo di Ianes su Arena, insomma in contropiede il Gubbio crea diverse insidie al reparto difensivo Biancazzurro, poi ci prova al 41esimo ancora Sainz Mazza che colpisce male il pallone sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Cittadino, anche in quell'occasione secondo me la difesa è rimasta a guardare, tutt'altro che reattiva, poi ci prova da lontanissimo Rizzo, siamo nel secondo tempo, la palla termina altissima sopra la porta difesa da Guidotti, sempre nel secondo tempo guardate Arena, fa fuori sia Frascatore che Drudi e poi allarga troppo il compasso, quasi occhi degli occhi, faccia a faccia con Raffaele Di Gennaro, davvero scatenato Arena, scuola a Catania, lo scorso anno giocava in Serie D nell'FC Messina, segnato 5 gol in 6 mesi, e poi il colpo di testa di Migliorini, il gubbio ad un passo dal 2 a 1 sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Cittadino, intanto ancora la formazione Eugubina che attacca, c'è un contatto in area di rigore pescarese, vediamo che cosa succede con Sainz Mazza che in realtà commette fallo ai danni della difensore Biancazzurro, ancora Arena entra in area, non aspetta altro che il contatto che c'è in Genoa, ancora una volta Memushay, era già successo nella precedente partita casalinga con la Vis Pesaro, davvero ingenuo, insomma avrebbe potuto fare molto meglio, avrebbe potuto fermarsi e attendere Memushay, invece calcio di rigore che sembra esserci il calcio di rigore che viene trasformato con grande freddezza e precisione da Cittadino, lo scorso anno nel Bisceglie 7 gol, pensate di cui 6 su calcio di rigore, un cecchino infallibile, classe 1994, il secondo gol con la maglia del gubbio in questa stagione, rivediamo l'esecuzione perfetta. Il gubbio dunque si riporta in vantaggio, siamo naturalmente nel secondo tempo, al settantesimo cambierà sistema di gioco, Gaetano Oteri con l'ingresso in campo di Di Ambo, difesa 4, 3 centrocampisti fuori Rasi, entra anche nel finale, intanto c'è una conclusione deviata, pericolosa da parte del Pescara che aumenta i giri del suo motore, almeno negli ultimi 20 minuti le cose migliorano sensibilmente, bravo Rasi, uno spunto personale tra tre uomini avversari, riesce a concludere la palla termina di un soffiallato alla sinistra della porta difesa da Ghidotti, dunque Di Ambo che ha preso il posto di Rasi, il tentativo di Dursi, anche Dursi è entrato in corso d'opera al posto di Marilungo, e poi ancora la Pescara che continua ad attaccare la ricerca dell'appareggio, Di Ambo apre il piatto e c'è la risposta di Ghidotti, molto bravo nella circostanza del suo modifensore del gubbio, che si allunga e sventa, dunque salva la sua porta dal possibile 2-2 che però arriverà tra pochissimo, vediamo quest'azione del Pescara con Memushay, bravo ad aprire il gioco per Clemenza, il suo sinistro è una meraviglia, il gioiello di Luca Clemenza, la doppietta in questa partita, il terzo gol stagionale con la maglia del Pescara, è molto simile, questo gioiello a quello di Pisa, giugno 2020, nell'unico gol segnato con la maglia del Pescara in Serie B nella stagione 2019-2020, è un trequartista puro, non ci sono dubbi, e poi che piede, un piede particolarmente educato, una parabola che scavalca il portiere Ghidotti, 2-2, vediamo che cosa succede nella parte finale del match, c'è un cross, non ci arriva Dudu Magni che è entrato in corso d'opera al posto di Arena, grande protagonista di questa partita, finisce 2-2, il Pescara ancora imbattuto, Pescara che però deve ancora lavorare sui tanti errori. Grazie